ciao a tutti sono vicky e benvenuti ad un nuovo video video wrap up del mese di marzo anche questo come quello del mese scorso sarà un po asciutto come wrap up perché anche qui ho letto delle cose che poi andrò a recensire in video singoli come per esempio ho letto il secondo volume della trilogia di alessandro magno di marie renault in realtà in gran parte ho letto anche il terzo quindi praticamente ho letto anche il terzo e quindi sono volumi che vi andrò a recensire insomma tutta la trilogia ve l'andrò a recensire in un video singolo apposito dedicato quindi in questo video e andrò a parlare essenzialmente di due libri prima di cominciare vi ricordo però come sempre che se volete supportare il canale potete farlo o acquistando i titoli di cui vi parlo dei link di affiliazione amazon che vi lascio nel box info potete fare sia appunto gli acquisti di acquisti dei libri che vi nomino oppure comprare cose vostre a piacere sempre tramite quei link a me arriva una piccolissima percentuale che non spendete assolutamente nulla in più oppure potete offrirmi un caffè simbolico tramite il sito gofee che vi lascio sempre qui sotto inoltre una terza modalità di supporto del canale è quella di poter attingere alla mia wish list amazon e quindi farmi un regalo che va in supporto del canale appunto perché è tutto materiale che io poi porto sui vari social sul canale eccetera ma bando alle ciance e andiamo subito a cominciare con la ciccia del video il primo libro di cui vi parlo è come un germoglio di bambù di te abricci un romance contemporaneo ambientato in cina nel mondo dello show business che mi è stato gentilmente omaggiato dall'autrice i protagonisti sono yu e shan due giovani idol gli idol in oriente sono ragazzi o ragazze piuttosto giovani molto popolari nel mondo dello spettacolo possono essere cantanti ballerini attori o queste cose tutte insieme nella storia shan pur essendo più giovani di yu è già un idol affermato mentre di yu vediamo proprio il percorso che lo porta a diventare famoso per entrambi comunque la vera fortuna arriva quando decidono di diventare gli attori protagonisti di un dramma fantasy storico con una storia d'amore gay ed è proprio sul set che i due arrivano ad innamorarsi l'uno dell'altro si tratta di un romanzo piacevole ben scritto la pena di te abricci è sempre molto valida la cosa più interessante del libro è che tramite i due protagonisti ci viene mostrato ci vengono mostrati retroscena del mondo dello spettacolo cinese si tratta di un ambiente che può risultare davvero tossico soffocante e pieno di ostacoli soprattutto per persone non eterosessuali l'omosessualità in cina non è affatto ben vista e comporta tutta una serie di censure e sotterfugi per poter produrre determinate opere una roba assurda senza contare la pressione a cui sono sottoposti gli idol perché praticamente loro incarnano determinati ideali estetici che li porta spesso anche a digiunare pur di rispecchiarli insomma io e shan si muovono in un ambiente per nulla semplice dove il loro amore è sia salvezza sia enorme rischio per le loro carriere il libro è diviso in tre parti la prima l'ho trovata forse un po troppo lenta considerando che un gran un grande spazio è dedicato anche all'opera in cui i due protagonisti recitano quindi proprio lettura del copione e cose del genere che secondo me ha rallentato un po la narrazione credo che avrei preferito un po più di snellezza in questa parte ho trovato invece più avvincenti la seconda e la terza parte dove succedono più cose senza però perdere di introspezione devo dire che spesso ho trovato i litigi tra yu e shan un po troppo forzati come se i due volessero litigare per forza e trovassero ogni pretesto per farlo pur essendo un libro che ho apprezzato dovendolo paragonare mi viene spontaneo farlo ad altri libri che ho letto e amato dell'autrice devo dire che questo non lo inserirei tra i miei preferiti ma per un gusto puramente personale comunque è un libro che consiglio assolutamente soprattutto agli amanti del genere e in particolar modo se vi piace l'ambientazione orientale e ancora più in particolare proprio il mondo dello show business cinese il mondo degli idol e queste cose qui poi ho letto the vampire prisoner di scarlet blackwell proprio un raccontino breve si aggira intorno alle 50 pagine sul quale però stenderei un velo pietoso perché è stata una tresciata pazzesca praticamente questo libro con i vampiri un erotico brutto con personaggi che fanno ridere e che di vampiroso in realtà ben poco molto bene il video finisce qui spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un like ed iscrivetevi al canale e fatemi sapere se avete letto i titoli di cui vi ho parlato qualcuno di essi fatemi sapere se la pensate come me o diversamente e perché insomma chiacchieriamole detto ciò vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao